Allora, noi vogliamo dare la possibilità ai nostri telespettatori, a due telespettatori, di poter andare a cena o a pranzo appunto al ristorante Tosca nel primo piano del mercato centrale di Firenze. La domanda è, guardate questi germogli, noi vogliamo che individuiate almeno due tipologie di germogli dicendomi di che cosa sono. Sono circa 5-6, mi sembra, i germogli che hai portato. Prego, se è possibile, avere una zoomata ancora più grande e ne scegliete due, va bene, di almeno due. Noi vogliamo sapere che cosa sono. Potrebbero essere di pomodoro, no, ovvio, di pomodoro rosso, no, non ve lo direi io. Sono germogli che in genere servono a corredo per dare quel non so che in più ai piatti. Allora, ricordiamo che con Francesco di origine pugliese noi stiamo facendo i cicatelli di grano arso. Abbiamo raccontato questa bella storia, che è una storia di povertà, di semplicità e quindi anche di recupero di quello che era possibile, cioè quando le stoppie venivano bruciate rimaneva qua e là qualche spiga di grano che quindi sapeva, aveva il profumo di bruciato, veniva presa e poi fatta la farina che quindi aveva questo connotato non solo grigio, bigio di colore, ma anche questa profumazione intensa. Oggi non c'è più, se Dio vuole, questa modalità per dare questo sapore, ma invece ci viene questa farina di grano duro tostata e quindi si ha un colore che noi vediamo qui, eccolo qua, che è un colore proprio leggermente grigiasco, color cenere, con un profumo leggermente di cenere. Questo ci costringe sicuramente a miscelarla con della farina normale perché altrimenti è come avere un piatto bruciato. Certo, certo. Abbiamo fatto questa pasta che dicevi è la caratteristica, la caratteristica di essere fatta a mano, senza uovo. A mano, sì, senza uovo. E tua mamma dicevano, tua nonna che... Che significa? Che significa? No, non ha un significato, però per ricordarci quello che ci dovevamo mangiare, diceva il cicatello e il cavatello, quindi il cavatello ti cavo gli occhi, i cicatelli, ti cieco gli occhi perché erano più dita. E quindi oggi facciamo i cavatelli, i cicatelli, scusatevi. Vabbè, tanto io non faccio né l'uno né l'altro. No, no. E quindi caratteristica è non avere appunto le uova, quindi comune alla pasta regionale, soprattutto del centro-sud, senza uova. Un sughino in divenire semplice di pomodorini. Povero, quindi non c'era tanto... Profumo, però. Molto semplice e profumato. Ci si mette qualche fogliolina di qualcosa? Sì, abbiamo il basilico. Le erbe spontanee non mancano mai, quindi un po' di timo, un po' di basilico e un po' di, a chi piace, anche un po' di prezzemolo. Quindi andiamo a bollire i nostri maccheroncini adesso e li condiamo con questo sugo e a rifinire useremo un'altra tipicità della Puglia, che è la ricotta salata di pecora. Quindi andremo a fare una bella piangerellina. È il vostro pepe, potremmo dire, naturale, no? Quasi, perché pizzichina, sapore intenso, molto molto interessante. Avete visto come si fa? La salsa l'abbiamo fatta tutta a fredda, quindi questo è anche abbastanza dietetico, non c'è soffritto. Quindi olio, basilico, un po' di, uno spicchietto d'aglio, un po' di cipollotto fresco, erbe quando ne vogliamo, quindi timo e basilico, se lo gradiamo di più, li mettiamo di più e basta. Vedete, non c'è aglio, non c'è cipolla, è proprio semplice. Questo è proprio per quelle persone che non amano quei gusti delle salse forti, quindi questo è tutto fatto a freddo. Io sono curiosa ad assaggiarlo questo qui, allora a questo punto io direi che possiamo mettere questo cicatello, avete visto il movimento, ve lo rifarà vedere in uno, l'hai salata l'acqua? Sì, già salata. Allora, guardate, si fa, descrivilo. Si stende la pasta, prima si impasta. Ah, basta uno, eh? Sì, no, ma mi serve un pezzo più grande perché scivola, sì. Ah, va bene. Allora, quindi, quello lo facciamo appassire. Poi ci vuole un bel vinello di loco rotondo, che fa bene, no? Della Daunia è meglio. Ecco, della Daunia è meglio. Va bene, insomma. Un bel caccio e metti di lucera. Caccio e metti? Anche qui la parola sembra... Caccio e metto? No, caccio e metto, quindi un vino tipico dei mondi da... Ma questi loro sono fissati col cacciare. Sì, sì, no, caccio e metti perché per fare questo vino qua si metteva poche ore con le bucce e quindi si toglieva. Quindi un vino caccio e metto a fermentazione velocissima, praticamente, di lucera. Il vino ha dei vini buonissimi di lucera. Allora, io senti, chiuderei qui, metterei le erbe aromantiche alla fine, le facciamo mettere... Adesso un po' e dopo un altro po' perché adesso si prende un po'... Adesso sentiti profondo. Eh, sì. Questo è spettacolare, il sughetto migliore che ci sta, il pomodoro semplice. Hai ragione, il pomodoro. Poi guardate, i pomodori veri non fanno acqua. Il pomodoro ora, di fine estate, di inizio autunno, non fa acqua. Allora, senti, mi fai per favore... No, ti riproduco il cicatello, quindi si formano dei cilindretti di questa dimensione di spessore, si prende la misura una volta, quindi tre dita, si chiamano a tre dita, cicatello a tre dita, il cavatello a un dito. Quindi andiamo a tagliare uguale o più o meno, vanno bene lo stesso, poi con le tre dita indice medio annulare, andiamo a fare una leggera pressione, deve girare sulle dita e si spinge indietro. Quindi riprende, riprende consistenza, come forma... Le mamme sul tavoliere si fanno una pasta, quindi la prossima volta portiamo un bel tavoliere... Anche da noi, eh. Senti, fammi invece il cavatello. Allora, poi c'è, quella a un dito, e quindi a un dito, la misura di un dito, è la stessa cosa. Questi vanno bene con... Questi li sto fanno... Sì, un po' più pesante la pressione. Deve uscire un buco centrale. Ma a me mi sembra, scusa, a me non si dice, ma mi sembra un gnocco. Così sì, no, ma noi lo schiacciamo. Assomiglia, dentro c'è il buco, ecco, sì, 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 sì. C'è quel buchino che poi si raccoglie il sugo. Qui i fagioli sono spettacolari. Ah, pure qui. Basta, basta, basta. A questo punto, quanto devono essere cotti questi? No, questi in poco tempo. Sono belle cotti? Sì, sì, sì. Adesso io li scolo. Io l'assaggio, voglio assaggiarlo naturale. Alessandro, vuoi assaggiarlo com'è naturale? Sa di fumo? No, no, alla cottura non sa di fumo. Allora la danno uso. Ok. Adesso è con questo che dobbiamo assaggiare. Allora, devo dire la verità. Non sa di fumo. Questa leggerissima, leggerissima cosa di fumo è deliziosa. Mi fa pensare anche a piatti futuri con aringa, eccetera, eccetera. Anche perché possiamo prendere degli spunti di un piatto che ha il sapore antico, il sapore di buono. Eccezionale. Bravo, 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 Francesco. Belle le tradizioni della nostra Italia, veramente. A me piace. Allora, quindi andiamo, si sposano bene anche i colori. Quindi andiamo a mantecare, come si dice in gergo moderno. A casa mia madre, se gli dico mantecare, dici ma scusate. Beh, anche perché poi è improbrio, in quanto manteca da manteca è burro. E poi inviattiamo. Allora, ricordiamo che per fare questi cicatelli, piatto regionale, pugliese, noi abbiamo bisogno di due tipi di farina, e cioè di due terzi di farina di semola di grano duro e un terzo di farina invece di, chiamiamola di grano arso. Sì, di grano arso, proprio così, di grano arso. Allora, io un po' di basilico l'ho messo dentro. Poi mi piace il forte, se è giusto qualche fogliolina, pochissima. E poi... E la ricotta salata. Sì. Quindi abbiamo preso, appunto, due terzi di farina normale, un terzo di grano duro, un terzo di grano arso, abbiamo allungato con un pochino di acqua, tirato questa pasta che è estremamente soffice ed utile e abbiamo fatto una sorta di minuscolissimi e lunghissimi cilindrini che poi devono essere lavorati praticamente puntando le tre dita centrali, sì, le tre dita centrali e tirando dietro. Non so se avrete capito, ma provate o riguardate magari la nostra puntata quando sarà messa su YouTube. Saltiamo molto felicemente, aggiungiamo qualche foglia di basilico e poi il rinforzo di questo piatto e adesso è completo. Adesso dici, momme te magno, eh? Sì, sì. E ricordiamo anche che il connubio perfetto di un piatto così semplice, antico, ma proprio eccezionale nella sua attualità è un semplice pomodorino che viene lasciato, tagliato a metà, viene aggiunto del basilico, dell'olio, il cipollotto e siamo a posto, va bene? Pasta, pochi ingredienti però. E insomma, basta, questa inquadratura è proprio bianco, rosso e verde, c'è proprio l'Italia della pasta. Sì, scusate, scusate. Bravo Francesco, andiamo invece a seguire quest'altra goduria che farà bene alla linea come fa bene al cuore il piatto suo. Vai? Bene. Allora. Eccoci qua con il nostro tiramisù. Aspetta, ricordiamo il quiz, noi abbiamo tante vaschettine di germogli, cerchiamo di individuare almeno due tipologie di erbe. Ecco qua, vedete, guardate, eccoli qua. Questo germoglio oscuro, quest'altro, questo con questa forma. Vediamo un po'. Alessandro, ti sei incantato? No. Perché te volevi andare alla tocca? Sì, sì, esatto. Stavo pensando, allora, stavo pensando all'uso mio personale, cioè nel gelato, nel serbetto, alle erbe. Eh, il serbetto alle erbe. Cioè, quindi stavo vagando, dai, stavo... Eh, sì, sì, vagheggiando, senti e vagando. Allora, ricordiamo gli ingredienti, va bene? Bene, abbiamo un pan di spagna al cioccolato, bene, quindi poi dopo abbiamo del mascarpone fresco, una crema pasticcera, della panna montata, le noci, il cioccolato fondente e una bagna al cioccolato. Analcolica, abbiamo detto. Analcolica, l'abbiamo fatta analcolica. Per questo abbiamo fatto uno sciroppo di acqua e zucchero, quindi diciamo 200 grammi di acqua, 100 grammi di zucchero e 35 grammi di cacao. L'abbiamo portata a ebollizione e abbiamo ottenuto così una bagna analcolica. Lo zucchero serve anche perché, cioè, quando andiamo a inserire i nostri ingredienti nel congelatore, abbiamo la possibilità di averli un pochino meno freddi anche sotto zero. Ah! Questa è proprio una tipologia mia di lavoro perché proprio, di fatti, andiamo a fare questo. Hai ragione, perché certe volte, quando prendi qualcosa di troppo gelato, non possiamo gustare i sapori. Esatto. Perché comunque si rimangono bloccati, potremmo dire. Un prodotto troppo freddo, un prodotto troppo caldo, cioè ovviamente al nostro palato non riusciamo ad avere la percezione giusta del gusto, sia di una cosa che dell'altra. Quindi ci deve essere un giusto equilibrio. Se andiamo sotto zero, dobbiamo fare in modo di, e questo rientra nella nostra tipologia di lavoro, proprio di arrivare con gli zuccheri, e perché ci sono varie tipologie di zucchero. Cioè il saccarosio, il destrosio, il destrosio serve appunto per poter dare quella cremosità e non congelare. Però sono anche dolcificanti, cioè hanno un potere dolcificante diverso da quello che è il saccarosio. Ci sono zuccheri che dolcificano di più, zuccheri che dolcificano di meno. Uno che dolcifica di meno è il destrosio e il glucosio, uno che dolcifica di più rispetto allo zucchero al saccarosio. Il saccarosio, per esempio, la stevia è una pianta però, eh? Sì, però la stevia è un dolcificante, si dolcifica molto di più. Però diciamo prima di arrivare alla stevia possiamo prendere il fruttosio. Ah, ecco è vero, il fruttosio. Perché? Allora, non ho toccato la stevia perché ha un potere dolcificante veramente altissimo e quindi ne basta così poco che ancora ad oggi non siamo riusciti a equilibrarlo bene. Esatto, perché abbiamo bisogno di una temperatura diversa rispetto a quella che lavoriamo ordinariamente. Mentre col fruttosio ci arriviamo, anche se ha un potere dolcificante e gelificante diverso da quello, però riusciamo a bilanciarlo. La stevia è ancora un pochino più difficile. Bene. Allora, tornando a noi, ripartiamo dal pan di Spagna, che deve essere al cacao perché così ci piace. È meravigliavo. È una risposta giustissima. Allora, come si fa un pan di Spagna? Tutti lo sanno fare, vediamo un attimo. Bene, allora, mettiamo a montare lo zucchero con le uova. Montiamo lo zucchero e uova fino a 10 minuti abbondanti, in modo che incorpori l'aria. Ecco, quanti? Magari se mi dai la quantità. Sì, abbiamo 250 grammi di zucchero e 5 uova. Bene, 15 andiamo a montarli bene, quindi per 10-12 minuti, anche un quarto d'ora. Se le uova sono a temperatura ambiente, meglio, perché riescono a montare meglio. Sempre, anche per la maionese, per esempio. Anche per la maionese, esatto. L'uovo si esprime di più proprio alla temperatura ambiente. È simpile che rimane, lo vedete, anche se fate un uovo al tegamino, lo buttate giù e rimane rattrappito. Sì, esatto. E quindi montando questo bene, poi lo posizioniamo. Va montato tanto, eh? Va montato tanto, sì, un 10-12 minuti, anche un quarto d'ora. Bene, dopo aver montato così bene c'è questo composto, a parte abbiamo preparato 100 grammi di amido di riso o di mais a seconda, bene, o fecola di patate anche, 150 grammi di farina e in questo caso 35 grammi di cacao. L'abbiamo setacciato. Cacao zuccherato? No, amaro. Cacao amaro. Amaro. Abbiamo setacciato tutto insieme, bene. E questo viene incorporato delicatamente, ma molto delicatamente, a mano. Tant'è vero che ci trova a volte qualche striatura, ma meglio qualche striatura in questo modo che il pan di spagna riesca a montare bene, che non arrivare a montare la macchina perché ottenete un risultato pessimo. Bene. Fra l'altro ricordiamo che il pan di spagna non ha bisogno del lievito, ecco perché una volta cresciuto poi si risiede e crea questa sorta di cretteature, di queste alveolature che sono la normalità. Ma non c'è pan di spagna che non abbia le rughe, come dico, le increstature. E quindi non vi preoccupate perché fra l'altro, siccome è un dolce che è destinato in genere ad essere farcito e anche coperto da un top magari di crema al burro, di panno, di quello che è, queste crettature servono proprio per incamerare. Certo. Quindi nulla è a caso, neanche dei dolci. Difatti è proprio normalissimo quando andiamo a fare un dolce e capovolgere il pan di spagna, lo capovolgiamo perché andiamo a sfruttare la parte o la togliamo oppure andiamo a usare la parte più pari, più liscia proprio perché ci fa più comodo sia per la decorazione che per quello che ci serve. Comunque deve essere una parte che prende, no? Una parte che prende, esatto. Francesco, tu sei un esperto di pan di spagna, lo fai così, vai di là, guarda, hai la tua ricetta o no? Io ho una ricetta sempre vecchia, infallibile. Sentiamo la sua. Un uovo, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di farina ed esce spettacolare. Non li ho mai pesati però esce, anche se oggi... No, 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 allora, cioè di fatti... Perché sono andate a nescare una diatrica sul pan di spagna? No, no, io non sono pasticcere però... No, no, ma di fatti la differenza, scusami, perdonami se sto dicendo una ciocchezza, proprio fra il paticcere o il gelatiere e il ristoratore è che proprio il paticcere o il gelatiere dovrebbe pesare tutto. Tutto, infatti. Ovviamente in cucina, cioè, questo possiamo anche, diciamo, un pochino solvorarlo perché riusciamo a fare le cose e a non percepire il gusto. Però, cioè, poi io sono uno che onestamente peso tutto anche in casa perché se una cosa, una volta mi viene bene, deve venire sempre uguale. Questo per me è il categorico, però, insomma... Quindi il peso fa parte delle cose non variabili. Sì, esatto. E quindi, dicevi, questa soluzione che propone lui, che è quella della mamma, della nonna, perché tutti fanno i panni spagna. Sì, quei panni spagna un po' casalinghi, casalinghi, sì. Però devo dire che non esce malissimo. Senza lievito. Senza lievito. Senza lievito. Siamo i bianchi a parte. Sì, questo c'è un altro tipo di panni spagna. Rossi con lo zucchero. E quello tipo mantovana diventa un po' più... Sì, diciamo... ...soffice. Diciamo che fa forse un po' più di briciolina. Sì. Quando lo andiamo a tagliare. A differenza di questo che vedo che è molto pulito. Sì. Come è? Allora, analizzando il tutto ci rimane solo la cottura. Il forno, l'abbiamo detto, ma sarà meglio ricordarlo. 180 gradi in 35 minuti. Beh, detto questo, il pan di spagna deve essere messo da una parte ed è tipico avere una teglia da pan di spagna che dovrebbe essere grande e piuttosto non tanto alta. Questo perché serve anche per fare il famoso rotolo che noi facciamo in Toscana, il rotolo al cioccolato con l'archemes, no? Quindi più la facciamo grande e meglio è, no? Bisogna pagare meno gli ingredienti. Anche sì. Bisogna diminuire un pochino. Oddio, quante versioni ci sono? A parer mio, per una cosa di questo tipo, bisogna diminuire le uova e aumentare gli albumi. Ecco. Perché otteniamo un pan di spagna un pochino più elastico. Però, insomma, comunque, più o meno il pan di spagna è il pan di spagna. Va bene? Ha queste caratteristiche che noi abbiamo detto. Però quello si deve rotolare. Sì, sì. Ma te ce lo metti sotto il... come si chiama? L'asciughino molle? Perché io lo seguo con l'asciughino molle. Insomma, ve lo farò fare un altro aspetto. Allora, arrivati qui. Questo è a soldato che è pronto. Perfetto. Poi, che si fa? Allora, poi che si fa? Allora, io qui ho preparato una crema particcera per un motivo molto semplice. Allora, possiamo fare in due modi. Possiamo fare una crema particcera o una meringa all'italiana. Bene. Con la pubblicità noi mediteremo su quale scegliere. Comunque, io vi darò dopo la ricetta di tutte e due pubblicità.